Bene amici di HDblog, i prodotti Zopo sono un po' altarenanti, uno ti delude, uno ti convince. Beh, questo purtroppo è la puntata del ti delude, Zopo ZP720. Perché mi hai deluso? Scopritelo insieme a me nella recensione completa. E sì, eccolo, lo Zopo ZP720, andiamo a aprire la confezione, vediamo cosa c'è in dotazione. Ci sono delle pellicole, oltre a un pulisci schermo per proteggere vetro e back cover, la graffetta per togliere le varie sim, poi abbiamo il solito alimentatore da 1A, cavo dati e cuffie auricolari standard. Vedete, ricordano un po' quelle del vecchio iPhone, io che non amo le in-ear ho apprezzato queste qualità, diciamo, nella media. Scocca non removibile, qua sulla destra pulsanti di accensione e spegnimento con il volume. Sulla sinistra abbiamo i due sportellini per le sim, uno in formato micro, uno in formato nano, oppure al posto della nano sim si può mettere una SD, quindi una alternativa all'altra. Queste due fasce sono in alluminio, mentre sopra e sotto è in plastica, sopra jack per le cuffie. Questo è un emettitore infrarossi per usare il telefono come telecomando, secondo microfono per la soppressione dei frusci, USB, fa anche l'OTG, il primo microfono, dietro la camera da 13 megapixel con il flash LED e l'altoparlante di sistema che viene completamente chiuso quando lo andiamo ad appoggiare su un piano. Vedete, è completamente piatto, soprattutto quando i piani sono perfetti come la mia scrivania, viene veramente attutito. Davanti camera da 5 megapixel con il sensore di luminosità di prossimità, l'altoparlante di sistema, e qua sotto, scusate la capsula auricolare, e qua sotto vedete un LED di notifica che è dentro il pulsante home. Tasto back, tasto menu, retro illuminati con dei pallini, possiamo fare per sbloccare o il doppio tap oppure uno swipe qua per sbloccare il telefono normalmente o qua per andare direttamente alla fotocamera. Ci sono poi dei gesti di sblocco, ve li farò vedere magari nelle impostazioni. Dietro è plastica, non è vetro, l'aspetto non è particolarmente cheap, però quando lo si prende in mano, non so, sarà la forma, sarà questi materiali diversi, insomma non convince completamente, ma vabbè lì è un gusto personale, 150,3, 75,7, 7,6 mm spessore, non è particolarmente spesso, ma è abbastanza pesante, non è dichiarato il peso, non è un peso più, ma sblocchiamo, batteria integrata 2330 mAh, forse con una superficie così ampia di disposizione si poteva fare un po' di più, uso ufficio sotto wifi, fermi, ha una buona durata della batteria, quando si inizia a uscire 4G, movimento, cambio celle, un disastro, inizia a consumare veramente tanto, fate conto che a me si è spento le 17 nella mia giornata tipo stress. Display 5,3 pollici, come vi dicevo prima, andiamo subito a vedere la schermata della palette colori, le mie immagini test, si può tarare il colore con il Miravision, devo dire che il display non è male, senza infamia e senza lode, anche sotto lo sole si vede abbastanza bene, l'unico problema è un po' che rimangono le detrate, vedete come è poco oleofobico, rimane veramente molto sporco quando andiamo a utilizzarlo, soprattutto d'estate con le mani magari un po' sudate, mamma mia che brutta immagine. palette, scusate, griglia di pixel ben riprodotta al netto della solita riga, ma questo probabilmente è dovuto al down sampling dell'immagine, per il resto si, non male, anche se su di un minuto lavora abbastanza bene. Entriamo nelle impostazioni, avete già sudorato che è un telefono KitKat, visto l'impostazione, vedete 4.4 la versione del software, possibilità di programmare l'accensione e lo spegnimento, gestione delle due sim come su tutti, mediate con la possibilità di rendere perfetta una delle varie sim, il 4G è switchabile a caldo su una o sull'altra sim, quindi si può decidere dove utilizzarlo, non c'è l'NFC, c'è il KnockHot, che è quella possibilità di hot knot, scusate, la possibilità di scambiare i dati semplicemente appoggiando un telefono all'altro, ovviamente i telefoni che hanno la stessa tecnologia, quindi fondamentalmente tutti i telefoni Mediatek, vedete la possibilità di modificare il 4G su una o sull'altra sim, torniamo indietro, vi parlavo prima di gesture, queste sono le gesture che si attivano e possono far fare delle operazioni al telefono passando la mano sulla fotocamera, fondamentalmente inutili, e mentre più utili le smart way, quindi il risveglio intelligente o col doppio tap, oppure disegnare in alto per sbloccare, oppure disegnare delle lettere per andare direttamente a delle funzioni prestabilite, per il resto vedete classiche funzionalità di tutti i cellulari Android. C'è il multitasking tenendo premuto il tasto Home e andiamo a vedere che processore fa girare il telefono. È un Mediatek MT6732 quad core a 53 1.5 GHz, la GPU è la potentissima Mali T660, probabilmente il collo di bottiglia è un po' nella RAM, 1 GB, in realtà CPU-Z è una legge 899 MB, 16 GB di memoria del sistema, i sensori li vedete qua, sono praticamente tutti i più importanti, il GPS che funziona bene. Parliamo adesso di parte telefonica, andiamo qua, chiamiamo il 190, vedete il dialer è quello stock di Android, possiamo rendere predefinita una sim o l'altra, in questo caso io l'ho fatto quindi non mi ha chiesto con che sim telefonare, alziamo il volume al massimo. Volume veramente basso del via voce, è difficile se non impossibile utilizzarlo in macchina mentre si va oltre le velocità urbane, voglio farvi vedere una cosa, la memoria è possibile inserire nella SD, ovviamente sacrificando una delle due sim, una memoria fino a 64 GB e questa può diventare disco di scrittura predefinito, quindi nessun problema per quanto riguarda la memoria. Proviamo a andare sul gestore delle pagine per vedere un po' come gira, mentre ho fatto la chiamata mi sono ricordato di un problema, un problemone che ho avuto con questo telefono durante soprattutto queste giornate con il sole pieno. Il sensore di prossimità probabilmente è messo in una posizione tale per cui quando c'è il sole, non so se il vetro, il bianco, non so cosa succeda, funziona veramente male. Mentre ero in giro per eventi, ero sotto il sole, a piedi, ho ricevuto veramente tante chiamate e la metà di queste o ho messo giù o alzavo o abbassavo il volume, proprio perché il sensore di prossimità non mi spegneva il device, ho provato a spegnere e accendere il telefono, ma purtroppo non è cambiato nulla. Vi faccio vedere anche come gira Twitter, in realtà io uso quest'altro programma, aspettiamo un attimo che carichino le immagini, ok? Una volta caricate le immagini, vedete, non è male, non è lento in assoluto, però ogni tanto ha degli veramente stranissimi puntamenti, soprattutto dopo un po' di uso, un po' di tempo in cui si utilizza, bisogna andare a spegnere e accendere il telefono per riportarlo alle condizioni di fluidità come lo state vedendo in questo momento. Apriamo la fotocamera, avete visto anche la fotocamera lenta ad aprirsi, vediamo la messa a fuoco, messa a fuoco direi nella media, è la solita interfaccia che troviamo su tutti i telefoni dotati di processore Meditech, non è da questo punto di vista personalizzata, vedete, l'immissione delle foto massimo in 4 terzi, 13,2 megapixel, 9,5 a 16,9, se andiamo, scusate, nei video, possiamo fare video massimi a 1080p e poi ci sono tutte le varie opzioni che troviamo su praticamente tutti i telefoni dotati di questo software e di questa interfaccia. Andiamo a vedere come scatta le foto, andiamo indietro, sono nella cartella di test, andiamo nella cartella fotocamera, questo è Buzz, il colpo di tosse che non può mancare nelle mie recensioni, allora zoomiamo, questo è Buzz, questa è la macro che abbiamo fatto, sembra ci sia una leggera patina sulla fotocamera, in realtà è pulita, allora le foto con tanta luce non vengono male, anche le macro non vengono male, mi hanno abbastanza stupito in qualche caso, senza flash invece pessime, con poca luce, potete vederlo anche dalla foto che faccio nel Bunker dove vado anche a testare la ricezione, se andiamo a zoomare è veramente tanto tanto rumore video, quando dico che i megapixel non fanno la qualità, questo ne è un esempio lampante, invece quando c'è tanto sole, tanta luce, vedete qua ero alla Darsena, veramente ristrutturata, fantastica location, Vodafone ci ha presentato il suo nuovo telefono, vedete Smart Prime, e devo dire che qua le foto invece mi hanno convinto parecchio, vedete anche se vado a zoomare, le foto non sono male, potete scaricarvi tutte le foto direttamente anche dalla pagina della prova, questa è una foto fatta all'interno, a una delle mie colazioni che organizzo qua a Milano ogni tanto, e vedete anche qua non abbiamo grandissima qualità, insomma quando c'è tanta luce ok, quando c'è poca luce invece no. Per quanto riguarda i video, avete la prova, il demo su YouTube, beh devo dire insufficienti, a meno che non vi piace l'effetto solarizzazione, perché quando andiamo a zoomare, oppure a fare riprese su oggetti che hanno contornetti, veramente effetto solarizzazione. 1080p che viene riprodotto tranquillamente, senza problemi di fluidità, andiamo indietro e vi faccio ascoltare Michael Bublé. sentite come si attenua quando vado ad appoggiarlo, proprio perché non abbiamo dei rialzi, quando lo ascoltiamo in voce così tenendo il telefono in mano, invece devo dire che il volume è decisamente superiore a quello della chiamata, non un volume stratosferico, ma sicuramente meglio. proviamo a vedere come gira Real Racing, poi vi farò vedere il browser web, aspettiamo che carichi, in livello di ergonomia, beh è un 5-3 pollici, è grossettino, con una mano si fa fatica ad utilizzare, anche se devo dire che la back cover non scivola, particolarmente nonostante sia in plastica lucida, però non è un telefono ergonomicamente comodo, vedete dove arriva il mio dito. La scheda video, la T760, è una scheda video tra le più potenti, quindi in teoria Real Racing dovrebbe volare e aprirsi con i dettagli al massimo, vediamo se sarà così, intanto il tempo di caricamento è veramente lungo, segno che probabilmente la memoria non è velocissima, io non ho stato niente sull'SD, non l'ho neanche messa dentro l'SD, quindi è proprio la memoria del telefono, ok, schiacciamo, aspettiamo che ci chieda la taratura, intanto abbasso un filo, così non devo urlare, così non posso dire altri colpi di tosse, ci siamo quasi, non sto a render guido perché sull'ultimo telefono non ho fatto vedere Real Racing, e allora ve lo faccio vedere qua, avete visto che Superlag inizia a soffrire di quello che vi dicevo durante la recensione, cioè molto fluido appena acceso, poi man mano lo si utilizza, dopo circa una mezz'ora di uso del telefono è così, avete visto, qua sta laggando su Real Racing, per esempio, ma non è un problema di scheda video, vedete, nonostante ci siano i dettagli al massimo, anche le nuvolette, quando gira, gira bene, vedete la fluidità, però ogni tanto ha veramente questi lag paurosi, avete visto anche adesso, probabilmente adesso perché sto uscendo, cosa è successo? Si è inchiodato Real Racing? No, si è ripreso, si sta ricaricando la pagina, uno dei call di bottiglia di cui vi parlavo, andiamo a aprire internet, per vedere come va il browser web, ma so già che andrà, non andrà benissimo, perché quando inizio ad avere questi rallentamenti, l'ho provato qualche giorno, prima di fare questa recensione, ecco inizia a entrare in sofferenza, e qua ci sta un riavvio, però non è che possiamo stare tutto il giorno a riavviare il cellulare, sta caricando, aspettiamo che arrivi fino in fondo, plaudo per il wifi, perché è dual band, quindi oltre ad avere il 2.4 GHz, ha anche la banda del 5 GHz, si fa un po' fatica, vedete non segue proprio benissimo le mie dita, anzi diciamo che non le segue proprio, adesso qua ho fatto un pan, fa un po' fatica a ricaricare, insomma avete capito come va, proviamo HD motori, visto che ci vogliamo fare del male, vabbè facciamo che non lo proviamo, andiamo all'home page, usciamo, e vi parlo di altre feature, ok ce l'abbiamo fatta, abbiamo la radio FM, abbiamo quello che dicevo prima, il trasmettitore infrarossi, abbiamo qua Zazzar Remote, fa un po' ridere come nome per un'app, si può andare a definire il tipo di televisore, il database è veramente immenso, e poi si può utilizzare direttamente con questa interfaccia, per cambiare direttamente il canale velocemente, vedete quasi stock Android KitKat, si possono cambiare, aggiungere widget, cambiare gli sfondi da questa schermata, cosa dire di questo telefono, costa 219 euro, in assoluto non sono tanti, ma mi chiedo perché dovrei spenderli per un telefono, che magari nei benchmark, o nell'uso da scrivania va bene, ma che poi quando si inizia a usarlo, a 360 gradi, inizia a rallentare, scaldare, adesso sta scaldando tanto qua dietro, al punto di doverlo riavviare 2-3 volte al giorno, per non parlare del sensore di prossimità, sotto il sole diretto a dir poco inaffidabile, insomma un telefono da ombrellone, per HDblog Andrea Galeazzi.